D'amona bilaik nel video واشتراك بالقناة فهذا يدamona كثيرا واشتراك بالقناة Demme e Zielinski e poi davanti Cagliecon, Mertens e Insigne. La Juventus risponde con il modulo speculare 4-3-3 ma probabilmente con un'interpretazione diversa con Maurizio Sarri. Buffon in porta, intanto il saluto tra Sarri e Gattuso che ha detto che Sarri è un po' il suo maestro. Ronaldo che prova a disorientare l'avversario, cerca il fondo, il cross, la deviazione è proprio di Di Lorenzo, calcio d'angolo in favore della Juventus. Mario Rui in avanti, va a cercare Mertens anticipato dalla... Dentro l'area Pjanic, il colpo di testa da allontanare è stato di... Eccolo Pjanic, quadrado, doppio passo, va a terra, Mertens dice di aver preso il pallone, l'arbitro è a due passi e cross intercettato da Di Lorenzo, poi Cagliecon. Di Lorenzo in profondità, pallone però troppo lungo e raggiungito. Da lui varato nel 2016 a causa dell'importunio di Milik. Va a terra Douglas Costa, l'arbitro si sbaglia però, interviene Di Bala, Cristiano Ronaldo, la risposta di Meretta, si salva il Napoli, continua ad attaccare la Juventus. Bentancur, quadrado, prima opportunità dopo... Il pallone tra i piedi dei giocatori della Juventus, quadrado, il colpo di testa di... Delicte, signe, pallone però troppo corto, capisce tutto, quadrado, pallone prebala, la triangolazione non si chiude, cerca di ripartire Napoli. Il maestro del mezzale, come in questo caso, Zilinski, a portare sulla squadra. Fermato in maniera giudicata irregolare da Delicte, può creare la superiorità numerica, Piani ci ha anticipato questa volta da... Koulibaly prova a cambiare gioco verso Cagliecon. Mario Rui alla meglio quadrado, lo scatto di Bentancur, intervento di Koulibaly. Insigne, va a terra Mario Rui, Di Lorenzo ancora per Temma, chiudere il triangolo, pallone... ...pergere e calciare con il sinistro. Maximovic va in anticipo su... Ecco la battuta sul primo palo, il colpo di testa ad allontanare. Meretta va a cercare in... Mario Rui la combinazione riesce all'interno dell'area di rigore, la terra Mario Rui... Quadrado, Piani, ancora verso Di Bala che si è smarcato bene tra l'elico nero. Cristiano Ronaldo cerca il fondo, prova il cross, intercettato da Dezio, ancora per Di Lorenzo che cerca il fondo, anticipato da Alex Sandro. Lo stesso Napoli che ha recuperato le posizioni come in questo caso, Cagliecon va raddoppiato. Si ferma però Di Bala anche perché il recupero dei giocatori del Napoli è stato rapidissimo, in questo caso fallo. E per un saltatore provetto come Cristiano Ronaldo, poi l'attacco di Matuidi che commette fallo ai danni di Cagliecon a calcio di... Siamo condizionati alla corsa di Di Bala. L'intervento di Alex Sandro e danni di Fabian Ruiz, protesta allo spagnolo, vorrebbe... Alexandro, il cross, sul secondo palo, il colpo di testa per Di Bala. Lo affronta quelli di Bala, va a terra, esce Meret, blocca il pallone. Non c'è niente, dice Doveri. No, anche Bro. Segue Cagliecon, il cross, intercettato proprio da Cagliecon. Calcio d'angolo in favore della Juventus. Che deve soffrire con la Juventus. Ronaldo centralmente, parte Di Bala, il cross nel cuore dell'area di rigore. Il colpo di testa di Mazzicchini che guidano i giocatori in campo, dando indicazioni. Calle elastico, viene fermato però da Mario Rui. Poi Demme, ancora... Il cross di quadrato a cercare Cristiano Ronaldo. Il suo Douglas Costa. Il cross, pallone intercettato. Si rinnova il duello con Mario Rui. Cerca il fondo, il cross, basso. Coulibaly girarsi, l'attacca Demme. Allarga per Appento ancora il cross, è interessante. Sempre fuori di tempo. Alex Sandro, il cross, il colpo di testa di Max Regolare. Tenuto il gioco da Delict e da Quadrato. Per Napoli abbiamo superato la mezz'ora, punteggio sempre di 0-0. Insigne. Parte Pjanic, il cross, il colpo di testa di Alex Sandro. Stava per arrivare Delict, troppo lungo, rimessa dal fondo. In favore del... Garnier. Intanto vedete un'altra grafica, la disponibilità al passato. Balì, Cagliecon. Va a terra Alex Sandro, toccato da Mertens. Punizione in favore del... Vedo Glascosta, va via Coulibaly. Poi a terra, protesta la Juventus per il contatto tra Coulibaly e Ronaldo. L'arbitro di Cibala. Il pallone per Cristiano Ronaldo. L'uscita di Meretto sui piedi del portoghese. Si salva il Napoli. Ancora una volta, un errore grave in uscita per il Napoli. Aveva approfittato molto bene la Juventus. Saria, Zielischi, viene fermato dal recupero di Delict. Poi di Bala, da una mano al colpo di testa. Insigne, carica il destro. Insigne! Sul fondo c'è una deviazione di Buffon. Calcio d'angolo. Benissimo la situazione, intervenuto con grande... Sta tentato da Quadrado. Arriva Cagliecon. Il sombrero di Quadrado che poi subisce il fallo di Cagliecon. Calcio di punizione. Va a cercare Alex Sandro. Colpo di testa di... Ancora con Demme, sempre Demme. All'interno dell'area di rigore. Demme! Si salva Buffon sulla percussione del centrocampista del... Tutte le principali per la squadra bianconeri in questa partita. Anche questa volta pallone troppo corto di Fabio Ruiz. Ha messo in difficoltà Zielich. Ancora Mertens, recupero di Bonucci. Poi insigne. Destro giro. Colpo di Bala. Defilato sulla corsia di destra. Coulibaly prova ad evitare il calcio d'angolo. Si riesce. Servito. Douglas Costa. Cerca il pallone per Di Bala. Prova a girarsi. Va a terra all'interno dell'area di rigore. Doveri è lì a due passi. Dice che non c'è niente. Continua. Douglas Costa. Di Lorenzo. Colpo di testa. Sul secondo pallone. A cercare Ronaldo. Il pallone sfila. Poi insigne al pubblico virtuale per la grafica che sta in azione. Ottimo il controllo. Con il petto e poi con il piede sinistro. Il cross di Douglas Costa. La deviazione di Mario Rui. Arriva il calcio d'angolo in favore dell'albaglia di Mario Rui. Intanto lancio in profondità per Cristiano Ronaldo che cerca di tenere. Numero cercato da Quadrat. Fasi in un possesso. Si abbassa un po' per fare 4-4-2 questi passaggi ovviamente. Pega Icon. Prova a girarsi in avanti. Ancora a cercare insigne. Che però ci prova a matui di da lontanissimo pallone. Insigne. Poi Mario Rui ancora insigne. Avete sentito? Si andrà direttamente ai calci di rigore. Intanto Buffon rischia un po' su questo pallone. In profondità. Cerca Lorenzo Insigne. La chiusura è stata un giortempissimo da quella parte. Anche Alberto Matuidi. Perché da quella posizione c'è Cristiano Ronaldo. Lui troppo vicino a lui. Deve curare il tempo. Per Quadrado. Che ha spinto poco nel corso del primo tempo. Sempre... Leva il pallone in Napoli. Caglie Con. Pensa alla conclusione. Prova con il destro. Non c'è nessuno che viene mai servito. Douglas Costa. Questa volta di prima. Prova il cross. Di Lorenzo. Fabian Ruiz. Il pallone tre piedi. Ancora Alex Sandro. Vicino a Matuidi. Va a terra Alex Sandro. L'arbitro lascia proseguire. Dopo l'intervento di Koulibaly. Protesta di Ronaldo. Aspetta l'arrivo di Pentancur. Che però colpisce malissimo. E spedisce il pallone direttamente in curva. Sempre giù Alex Sandro. Che aveva subito. Lo ripetiamo. Un infortunio poco fa. Pensavo cacciasse in porta Cristiano Ronaldo. Perché ha fatto 40 metri. Si era posizionato proprio nella sua posizione. Di Douglas Costa. Disorienta un avversario. Un secondo. Arriva Koulibaly. In scivolata. Intanto lo vedete. Il giocatore del Napoli ancora giù. E allora Mertens mette il pallone fuori. Eh sì. Perché Sarri aveva chiesto anche magari solo che Douglas Costa non... Anche nel primo tempo l'ha fatto una volta. Ed è importante per la squadra di Gattuso il coinvolgimento delle mezziali. Proprio per accompagnare la... Cerca proprio il belga. Il cross di Mertens dalla parte opposta. È un passato del campo. Buffon. Pressing di Mertens. Buffon lungo. Un po' il pallone riesce comunque a recuperare. Sempre di pala. Il contraricerca di qualche pallone giocabile. Finora ha avuto pochissime occasioni. Poi Marekros. Basso l'effetto a Fabian Ruiz. Sinistro. Sul fondo. Buona azione. Perché giustamente non può crossare in area di rigore. Il zilis che lo vedete. Posizione di Mario Ruiz. Servito il portoghese. Il cross sul primo palo. Marekros. Quadrato. Sbaglia il passaggio quadrato. Prova a ripartire. Converge. Lo spazio per il cross. L'effetto a cercare Cristiano Ronaldo. Bonucci. Carica il destro. Prova la conclusione centrale. Pitch di bala. Il sinistro non trova la porta. Mazzimovic è veramente ancora sempre molto attento. C'è sempre di Lorenzo. Con Zielischi. Inseguito da Bentancur. Cerca il colpo di tacco in signe. Calcio di punizione. Protestano i giocatori della Juventus. Arriva il cambio. Fuori Douglas Costa dentro Danilo. Nociasso a cercare Politano. Carica il sinistro. Prova Politano. Blocca a terra Buffon. Prima occasione per Politano. Tiro velenoso persino destro basso. Era un cambio facile da ipotizzare. Tocco centrale verso Cristiano Ronaldo. Trattenuto irregolarmente da Coulibaly. Si alza la bandierina del primo assistente del signor. Sono cambiato. Può anche vedere i parienti. Il cross di insignia. Cercare Milik. Il colpo di testa. Parte di bala. Verso la porta. L'uscita di Meretta. Si salva con i pugni. Portiere del Napoli. Fabenzo. In mezzo. Il velo di Politano. Milik. Grande opportunità. Sul piede non preferito dal polacco. Manno converge verso l'area. Pallone sul destro. Indietro a cercare Milik. In sifonda l'intervento di Lorenzo. Cristiano Ronaldo. Rimpallo. Bernardeschi. Arrabbiato molto prima. Adesso sta parlando con Bernardeschi. Sta per arrivare. Veloce Alex Sandro. Lo serve Ronaldo sulla corsa. Deviazione. Pallone in calcio d'angolo. Qui invece hanno sfruttato la tecnica molto bene. Movimento in profondità proprio di Bernardeschi. Pallone però troppo lungo. È pronto al cross Alex Sandro. Parte il traversone sul secondo palo. Danilo. Lo serve Quadrado. Danilo. Prova sfondi di bala. Rimpallato da Coulibaly. Quadrado. Danilo. Ancora per Quadrado. Tano. Cerca proprio all'anni. Il pallone dalla parte opposta. Insigne con il sinistro. Non trova la porta. Da buona posizione. Guarda come attacca il Napoli. Viste Buffon. Si salva il palo. Colpito dall'anno. Ancora Maximovic. Occasione super per il Napoli. Che va vicinissimo. Di bala. La parata di Volete. Sbaglia Paolo Di bala. Il Napoli è subito in una posizione. La finta di Insigne. 1-0 per il Napoli. È rimasto fermo. Proprio anche l'ha guardato Buffon. Alto. Sbaglia anche Danilo. Aspettato molto dopo il... Buffon intuisce ma non para. Segna Politano. Perché è forte. Traversa e gol. Segna la Juventus il suo primo rigore con... Centrale potente. Segna Maximovic. 3-1 per il Napoli. Viattuso. Spiazzato Meret. Segna Ramsey. Al prossimo. Segna Minic. E come nel 2012. Trionfa il Napoli. Che vince la sesta...